Siamo con il Presidente della San Benedettese a commentare una vittoria importante e forse un po' più sudata rispetto alle previsioni. Le previsioni non ne faccio mai, è stata una vittoria molto sudata, non poco sudata. Il Campobasso è un'ottima squadra, forse la migliore che ho incontrato. Io mi sono permesso anche di andare in spogliatoi per il Campobasso a fare i comprimenti ai ragazzi, perché generalmente non lo faccio mai, è la prima volta nella mia carriera che l'ho fatto. Oggi l'ossettivo di fare l'ho fatto. Quindi vuol dire che è rimasto soddisfatto dalla prova di una squadra che doveva essere una delle grandi, che invece purtroppo ha qualche ritardo in classifica. Sì, però credo che si avvicinerà molto alla vetta al Campobasso, perché fa queste prestazioni e ha davanti a sé un buon calendario. Presidente, parliamo della San Benedettese, un altro tassello verso quella Lega Pro che lei ha portato qui a San Benedetto, diciamo già dal suo avvento, quando ha rilevato questa società. Sì, il mio obiettivo è quello, sono venuto soltanto per quello, perché io un altro anno di DIN non me la sento di fare, anche perché ho fatto sempre il professionismo. Però una piazza come San Benedetto diciamo che se lo merita anche, perché il pubblico è quello che è, risponde, ci aiuta in tutto. Quindi speriamo di poterlo accontentare. Ecco, parlando di pubblico, due grandi società, due grandi storie del passato, un auspicio magari di ritrovarsi fra qualche anno in una categoria superiore. Sì, io gli auguro molto, gli auguro al Campobasso di poterci incontrare ancora con noi. Quindi da adesso in poi strada in discesa ormai. Ma guardi, in questi campionati non bisogna mai demordere. Oggi, per esempio, il Materi ha incontrato l'ultimo da classe, è andato a perdere 1-0, quindi è tutto a dire. Ogni partita fa storia a sé.